Salve a tutti youtubers, qui è Kaleco84 mi vedete tutto elegante perché sono appena tornato da lavoro e ho trovato una bellissima sorpresa sul mio canale un ID claim su The Vanishing of Ethan Carter che all'inizio ho bloccato immediatamente poi ho deciso di lasciarlo visibile ma non in lista perché così chi aveva fatto l'ID claim poteva guardarlo vedere che l'ID claim era su tipo 20 secondi di video e togliermi l'ID claim poi informandomi ho scoperto che questo ID claim è stato fatto non faccio nomi, da qualcuno che non ha alcun diritto su alcuna musica e a questo punto a me iniziano a girare i coglioni ma davvero, non un po', un pochino mi girano veramente i coglioni perché sono perfettamente d'accordo con l'idea che il proprietario del gioco il proprietario vero delle musiche del gioco fino a un certo punto possa fare un claim ma non persone o società a random che dicono ma sì perché tanto a YouTube non gliene fotte un cazzo perché è così a YouTube non gliene frega niente gli arriva un ID claim lui ti fa l'ID claim passa la monetizzazione a quest'altro anche se non ha alcun diritto su quelle musiche e basta YouTube continua a prendersi la sua monetizzazione lo YouTuber che nel mio caso non guadagna un cavolo guadagno 6 centesimi guadagnerò io da questo video alla fine quando l'avranno visto tutti a dir tanto quindi non me ne frega niente di quello però comunque ci guadagnano sopra alla facciazza mia e a me la cosa sta sul culo come ho già detto se fossero gli sviluppatori del gioco a fare il claim non avrei assolutamente niente da dire il gioco l'hanno fatto loro se questa è la loro filosofia ok ma visto che non sono gli sviluppatori ad aver claimato il video la cosa mi fa incazzare questo è il secondo video che faccio perché il primo era molto più incazzato però mi sono calmato e non vedo per quale motivo dovrei fare sfuriate per certa gente che si attacca ai centesimi e allora ho pensato di fare una bella cosa ho contestato questo claim quindi non posso più rimuovere il video fin quando al 27 del mese prossimo loro probabilmente rinnoveranno il claim per fottermi per così dire quindi ho deciso di fare una bella cosa visto che a quanto pare la mia connessione internet è a posto ho deciso di testarla come? con un bel live stream di The Vanishing of Ethan Carter su Hitbox ragazzi voglio proprio vedere se lì riusciranno a climbarmi l'ID e lo farò con la musica a palla magari metterò anche qualche altra musica solo che non so quali sono le musiche che hanno loro veramente se ne hanno ovviamente di musiche di loro proprietà quindi non posso però lo farò tranquillamente l'orario non lo so ok? voi andate su Hitbox il... come si dice? l'utente è Italian Nerd Game aspettate un attimo che controllo un secondo ok l'ho trovato è Hitbox TV slash Italian Nerd Gamer proprio sono io con le maiuscole scritte ve lo faccio apparire in sovraimpressione fare un bel editing stavo pensando all'inizio di dire proprio fan quello s'abbandono YouTube no ok io continuo con YouTube nonostante io non sia neanche incazzato con questi qui io sono incazzato davvero con YouTube perché è YouTube che deve evitare che succedano queste truffe e se ne strafottono è quello che mi fa incazzare perché loro hanno trovato un modo per farsi soldi perché non dovrebbero sfruttarlo se c'è no? mi sembra giusto li prenderei a frustate potessi ma effettivamente non è colpa loro la colpa è di YouTube che non gliene frega niente gli basta avere il culo parato che gli YouTuber piccoli perché a quelli grossi li guardano ma che gli YouTuber piccoli si arrangino ok nessun problema d'ora in poi quando avrò degli declaim falsi non quelli veri quelli veri io li accetto se sbaglio o riuppo il video senza il coso oppure me lo tengo con gli declaim non ho assolutamente nessun problema quando sono legittimi quando sono illegittimi YouTube se ne frega bene si streama su qualcos'altro quindi oggi ora sono le 3 praticamente mentre sto registrando questo mini video che sarà anche in bassissima risoluzione per farvelo arrivare in fretta comunque vi butterò l'orario nei commenti oppure in sovrimpressione tipo qui adesso apparirà l'orario a cui farò la live e giocheremo a The Vanishing of Ethan Carter attenzione perché proverò a streamare a 720p quindi cercate di avere una buona connessione mi dispiace tantissimo se non ce l'avete non me ne frega che ci sia tanta gente io lo stream lo faccio spero che accorriate in tanti possiamo essere in 2 possiamo essere in 5.000 sarei contentissimo fosse in 5.000 perché sarebbero 2.500 di più di quelli che siamo adesso in totale sarebbe una figata ragazzi quindi ditelo a parenti amici fidanzate mamma e papà e giocheremo tutti quanti assieme non penso che potrò parlare con altri tipo con meta eccetera commentare ok quindi facciamo così vediamo come va e basta e continueranno a uscire altri video normalmente purché non siano copyrightati ci vediamo su itbox più tardi ragazzi ciao ciao ciao